la signorina larice è veramente soddisfatta di sé con la sua bella pigna nel centro del cuore lei passeggia per i sentieri del bosco sicura della sua sensazione di esistere di esserci il suo incedere è elegante e calmo gli uccellini e le farfalle le gironzolano intorno tempo fa se ne stava in un angolino seminascosta aveva paura di essere derisa dato che la sua considerazione di sé era equiparabile a nulla cosa le era successo una pigna le cadde in testa e la botta l'aveva svegliata sì l'aveva proprio svegliata alla grande larcia si era resa conto di esserci così com'era aveva realizzato di esistere anche nella sua piccolezza e che nonostante questo dio fosse con lei ora gode della sua presenza regale nel verde del bosco reale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.